Quale posto migliore della città dove ho iniziato a muovere i primi passi in politica, la città di Ponte d'Era, per dire che sì, se troverò le firme, intendo candidarmi. Ormai i meccanismi di selezione della classe dirigente nazionale non sono più dall'alto e credo che sia giusto provare a dire quello che penso, sia in termini di valori che in termini di proposte, di sfida concreta sui contenuti. Stop, dice Rossi nel PD, alla dicotomia renziani-anti-renziani. In una posizione che è la mia, io non sono e credo che sia sbagliato dividere tutto il dibattito tra renziani e anti-renziani. Io sono rossiano e mi candido con i miei valori, con le mie proposte, con le mie idee. Se incontrerò consensi bene, altrimenti si prenderà atto che è così. Quindi ci sarà poi un congresso? Prima o poi il congresso deve esserci, per lo statuto il 2017 è una data insuperabile.